Non si può dire di essere autentici biturgensi o di conoscere bene Sansepolcro se non si è andati almeno una volta al ristorante Fiorentino. Si affaccia in via Luca Pacioli ma con le sue finestre e l'inconfondibile balcone anche sul corso via 20 Settembre. Ma il Fiorentino, ne parliamo con Alessia Uccellini, ha una tradizione di grande ospitalità che nasce con uno spirito si può dire dettato anche da Alessio che era tuo padre? Sì, l'anima del Fiorentino è questo passaggio, io dico ma ha dato la patata bollente perché Alessio ha creato al Fiorentino non solo Alessio, anche Beniamino prima di lui, la Maria e la Rosa eccetera. La casa è il ristorante, il ristorante è la casa e la casa si apre per accogliere le persone che vengono, è un'ospitalità familiare, sei ospite in una maniera un po' diversa dal solito. E anche i retaggi degli avvenimenti che si svolgono al Fiorentino, io ho scoperto, ho scoperto, ho trovato foto, a parte i matrimoni, i banchetti eccetera, ma anche di feste tipo il Veglione che veniva fatto a Carnevale o delle feste particolari, delle rappresentazioni teatrali, quindi una stratificazione storica di eventi che mi piace riprodurre con, mi è piaciuto riprodurre prima con il Teatrino del Fiorentino. Il Teatro Popolare o comunque gli attori che sono passati di là. Diciamo che il convivio rinascimentale in tutto ciò ci ha aiutato molto perché mettere insieme cucina e arte e teatro e giocoleria in questo girone infernale che poi era il convivio. E poi nelle mie esperienze, poi a un certo punto la vita del ristoratore è terrificante, no? Perché è pranzo, cena e feste comandate. Allora ti invitano perché sabato c'è l'inaugurazione di una mostra e se non ci puoi andare, ti invitano per una cena dove c'è la presentazione di un libro e non ce la fai andare perché sei là. C'è un concerto in cattedrale e non ce la fai andare. E allora ho pensato se non posso andare a queste cose che mi piace fare, allora io me le porto dentro. Ed è successo che hai ospitato, ed era ancora vivo il tuo padre Alessio, una mostra collettiva ad arte varia della Compagnia Artisti di Sansepolcro. È stato un po' come scoprire delle energie, perché dopo quella mostra ne è venuta una serie. Sì, questo è stato colpa tua e della donata da Zanchi, perché a un certo punto mi avete proposto facciamo la mostra al Fiorentino. Cioè mi va bella titubante perché lui spostargli le sue cose, i suoi quadri, le sue stampe, insomma non era molto contento. Anche perché il Fiorentino è pieno di bei quadri, cose d'argento, cose di importanti premi, riconoscimenti. Però alla fine avete deciso per toglierli. Sì, perché lì le cose sono tutte vere. C'è la vetrina vera, c'è il quadro vero, perché non è una cosa improvvisata. Mi viene in mente quei ristoranti toscani finti, che vedi che c'è la vetrinetta comprata, non per criticare, perché ognuno ha i suoi gusti, i suoi stili. Però lì è veramente vero, cioè quello che c'è è una stratificazione di storie, dalla scala anni 50 che ha fatto Begnamino al mobile archivio del 1800 in Noce di Sansepolcro. Insomma è quello che è l'anima, la stratificazione storica nel tempo. E allora abbiamo tolto questi quadri e non so se ti ricordi cosa ti ho detto io. Bello il Fiorentino così. Cioè è come dargli un vestito nuovo, no? Tutte le volte. Si potrebbe dire che avete cambiato per qualche istante aria, lo avete fatto più volte e sono passati i fotografi Petruzzi, Angelo e Francesca, con una mostra anche poetica, perché c'era anche di mezzo Olinto Gerardi, ma sono passati due bravissimi fotografi di Monterchi. Ricordiamo queste due mostre. Sì, allora Mani Anime del Borgo per me è stato amore a prima vista, ma quando mi hanno invitato a vedere la mostra che era a Palazzo Petorio, ho detto ma guarda vai a vederla perché c'è qualcosa che ti riguarda direttamente. E io sono entrata dentro e ho visto questa foto del ristorante presa dalla strada, praticamente, che guardava il balcone del Fiorentino, con questa poesia che dice omaggio a non Luca, Luca Pacioli, i fiori sul terrazzo, dove si affacciava Alessio, anche un ragazzo. Ecco io gli ho cominciato a piangere, ho guardato tutta la mostra, ho continuato a piangere per tutta la mostra. Non hai potuto che chiedere che venissero anche al Fiorentino? Sì, assolutamente. Io ho detto no, ma voi mi dovete portare questa roba perché per me Mani Anime del Borgo è Mani Anime del Fiorentino, me la dovete portare. Poi due fotografi di Monterchi, che costano ancora un omaggio alla famiglia Uccellini? Sì, perché lì è stato, lì c'è stata una cosa, cioè loro cercavano con un progetto fatto dal comune di Monterchi e con la regione Toscana, quindi un supporto importante, una mostra che è stata alla Madonna del Parto, quindi non dell'ultimo museo del mondo, diciamo così. E cercavano i dipinti, dai dipinti di Piero De Francesca, ricercavano i volti e i gesti ancora esistenti nella gente della nostra vallata. E mi hanno chiamato un venerdì sera, il 12 di febbraio dell'anno scorso ormai, e mi hanno detto guarda c'è una mostra, vorremmo fare queste cose, io ero incinta di stella, e mi hanno chiesto per favore se potevo fare da Madonna del Parto, cioè da rappresentare la Madonna del Parto. E io ho detto sì, lo possiamo fare, ma ho detto non ti devi preoccupare, tanto la mostra comunque comincia alla fine di giugno, quindi abbiamo tempo. Eh no, non abbiamo tempo, perché stella nasce ora, quindi noi o facciamo le foto o facciamo le foto ora. Questo scatto è avvenuto ed è bellissimo perché si vede la pancia, questa bambina si può dire che avrà uno scatto d'autore prenatale. Sì, sì, ma poi mancavano veramente pochi giorni perché noi abbiamo fatto le foto la mattina di San Valentino, anche questo non è casuale, alle 9 di mattina alla Madonna del Parto, ero emozionatissima, la pancia era quadrata, cioè si vede nei piedi della stella proprio o cos'altro, non lo so, quadrata la pancia. Quando ho rivisto questo scatto mi sono emozionata perché ho detto ma ero veramente così grande con questa pancia preminente così. Poi c'è stato un'amicizia e un collegamento diretto con Maria Cristina Moreschi, io sono qui in Asia, è inaugurata il 1 aprile e rimarrà aperta al Fiorentino fino al 15 giugno, è una mostra molto evocativa in breve. Sì, io sono qui in Asia, abbiamo conosciuto Maria Cristina parlando di Cucina del Rinascimento, quando sono venuti con il suo photoclub, aveva questa compagnia di aspiranti fotografi a San Sepulcro lo scorso anno e loro hanno fatto questi scatti sul palio della balestra e a me è venuto in mente portiamo il palio della balestra dentro al Fiorentino, nel periodo del palio proprio e lei mi ha detto ma perché non facciamo qualcosa prima, io sono qui in Asia e gli ho pensato ma cosa c'entra io sono qui in Asia con il ristorante Fiorentino e c'entra molto di più di quello che si potesse immaginare. Quanto fanno parlare queste mostre le persone che stanno ai tavoli a mangiare? Sì, la gente chiede, la gente torna, la gente viene a vedere le foto, è una bella cosa, la fotografia è immediata e poi siamo anche in un momento in cui la fotografia è cambiata tantissimo se pensate a solo 15 anni fa, forse anche meno, che dovevi fare la fotografia, stamparla, aspettare che venisse stampata eccetera eccetera adesso con il digitale è impressionante, cioè siamo bombardati di fotografie, siamo su Instagram, siamo su Facebook, siamo ovunque con le foto in pochi istanti. E con Maria Cristina Moreschi non si va a danneggiamento con questa filosofia della qualità perché è una grande fotografa? Sì, è una grande fotografa e poi lei dice la mia prima mostra, ha capito la sua prima mostra ma facciamone altre perché ragazza mia qui c'è talento. Andiamo in ordine cronologico, le prossime due mostre sappiamo che a settembre ritorna Maria Cristina Moreschi, come? Ma prima parliamo della mostra che c'è prima. Prima, a metà giugno, quindi in concomitanza anche di quello che avrà Sansepolcro con il cinquecentenario della morte di Luca Pacioli facciamo una mostra con Marco Meini che è un mio amico di Firenze che fa chiaramente il fotografo e che ha in mente questa cosa di cucina d'autore, infatti devo mandargli anche le foto della mia cucina del ristorante e la foto di mia cucina di casa perché ancora deve decidere quale delle due foto vuole mettere e quindi cucina d'autore, una cucina dalla cucina di una casa colonica a una cucina di un grande chef quindi il sentimento della cucina, la cucina come luogo della casa, della vita, come centro dell'universo alla fine, dell'universo familiare. La cucina italiana è una componente importante dell'italianità stessa? Come potremmo pensare a un italiano senza cibo? E' quello che mi chiedo io, perché siamo ridotti così se abbiamo il 70% del patrimonio artistico e culturale? Abbiamo dei paesaggi strepitosi? Abbiamo una cucina impressionante perché questo essere stati e staterelli fino al 1860 vuol dire che in tutta Italia ci sono 21 tipi di cucine diverse, ma veramente e profondamente diverse che si contaminano l'una con l'altra e si mangia bene ovunque e poi io ho la predilizione chiaramente per la cucina toscana e per la cucina piemontese e la cucina siciliana sono queste le cose che mi colpiscono di più. Prendiamo questo tuo ragionamento per un'Italia che risorgerà nel migliore dei modi e a settembre Maria Cristina Moreschi torna con alcuni amici, si può dire con il suo entourage di, lei si definisce aspirante fotografa, di fatto sono tutti bravi fotografi, cosa presentano? Presentano le foto del Paio della Balessa dell'anno scorso, delle foto eterne direi io cioè che danno proprio il senso di questo rito che è il Paio della Balessa che perpetua il mito della città di Sansepolcro. Grazie mille! Grazie mille!